Il servizio di Simone Anzani L'ambianza torta alla ricevere Aghanier nel campo l'Ube De Cecco vuole la chiusura con Simone Simone Anzani Guardate Simone La ricorsa frena E poi salta La riceve Lucarelli Simone Alta dietro al muro di Aghanier Che non è proprio Jonas Aghanier Al servizio Gianplotti da 5 Su Maloyan Sottile Simone Continua questo duello A giustanza tra il centrale Francese Aghanier Sessione di Santos Per La palla in banca Che appunto E' veramente una palla in banca Simone Ancora segno Il cubano 10-8 Per la squadra di ricezione Sul servizio di Roverland e Simone Ehi Roverland Perfora Bonami e Magalini Time out Rado Stoic Ancora potentissimo Simonti Ha infierito Nei confronti Della Recessione Ravennate E quindi Ottiene il primo Colpo Da posto due De Cazzo il Carelli Ora il servizio Viene molto bene Bonami Spito a Spife Per Aspaluo Murato Da Roverland In form Sta molto bene Questa azione Da Roverland Simonti Rimane là Al centro della rete Per Porto Robustosa di Ravenna Servizio molto potente Ma ben ricevuto Per una Nuova Combinazione Veramente Al full micotone Impressionante Questa combinazione Tra l'argentino E il cubano È una veloce Anticipatrice Servizio floating Ricevuto da Balaso Bellissima Questa combinazione De Cieco Simona Due conclusioni Dal centro Sicuramente Mischia un po' Le carte L'allenatore Della squadra Romagnola Dicezione positiva Palla ancora viva Comparoni col bagger Zaitsev De Cieco Non si fa pregare Sapendo di poter Contare Su una spalla Come Robert Landy Simón Va sul sicuro Con Simón Gillo Magalini Più tre Cucine Lube Civitanova Salto Netbalando Sottile Palla Simón E non Incappa Delle mani Prodese a muro Da parte Di Aghani Esce Dal muro Presso Di Ciccola La zona di ricezione Sottile Di Robert Landy Simón Qui invece Va a trovare lei Sul Malcapitato Giulio Magalini E il Sottile Luca Ulrich Schiacciatore In salto Esizio potente De Cieco Vedete Bellissima Veramente Fulminea Questa Combinazione Un meccanismo Assolutamente Oliatissimo Imprendibile 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 Questa raccordura 6-4 Totale ricezione Per Možic Non può Taccala Geste Sottile Simón Al segno Robert Landy Primo tempo Strato Sperico Di Robert Landy Simón A dare Tranquillità Al proprio Attacco L'esperienza L'esperienza E di lasciarla Spalla Che purtroppo Cade Nel campo dell'esperienza Non la rafforza Si parla Palla E mano Per Sottile Si La spara Sui nove metri Del capo avversario Nell'angolino Là in fondo Verso Zona 5 Il segno Robert Landy Simón Federico Bonami Sbagliato Sottile La piazza Sotto Spirito Primo tempo Di Agni Che si trova Il muro Di Robert Landy Simón Facile no? L'attacco Di spirito Simón Lappo Salto Da cilio La piazza Su Lucarelli Simón Ha paura Del Magno Di cortesia Che erano lì A cercare Di intercettare Il primo tempo Apre Verso Zona 1 L'attacco Luca Spirito Al servizio Forza Su Jan Palla E mano Per Sottile 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 A segno Con il Primo tempo Il Robert Landy Simón Oroioli Problema In ricezione Di Oroioli Che si autoaccusa Dell'errore Quindi Time out Su tre punti Che arrivano a formazione Offite Nel corso Del terzo set Sottile L'uva Sono 4 22 18 Club Bike Tocco Fare un muro Perfetto In band E dopo Ti costringono Anche L'errore Questa volta È una palla Non scritta Da parte Di Simón Che va A dialogare Direttamente Con i Prochi Compagni In panchina Dicendo State vestiti Che abbiamo fatto Altrimenti Saremmo pari Ancora un servizio Potentissimo Di Di Ascov Che interviene In questo caso Ma Palla Fin di rete Ci mette Delle due Manone Simón Robert Landy Simón E c'è una richiesta Di tocco Della rete Da parte Di Emanuele Zanini Speriamo Che ci prenda Svona Piazza Blas Su Modic Ace Numero 2 Per Robert Landy Simón Capita Costesia Agadiene 3 a 0 Per Verona E ora Subisce L'attacco In primo tempo Di Robert Landy Simón Tanto da 1 La piazza Su Lucarelli Ha una mano Di Steve Lucarelli Poi si rialza E la deposita là Dove c'è però La difesa Miracolosa Da parte Di Francesco Donati Simón E' d'accordo 22esimo punto Lucina Lube Civitanova Lucarelli Ha una mano Simón Che attacca In maniera Vincente Punto numero 18 Per la Lube Ancora Alzani Al servizio Servizio Con una palombella Alza in questo caso Simón In favore di Ivan Zaycev Che scaglia Un'aria Terra Stiamo vedendo Stiamo vedendo Zaycev In pieno Piena Di questa esperienza Da il bike Al servizio Un momento contenuto Da club bike Per la confusione Di Orioli Palazzo La fight E' ancora contenuta Dai giovanissimi Della formazione Romagnola Orioli Se non vado Errato Orioli E' senza dubbio Un giovane Molto interessante 17 anni Cappelli Ma nel servizio 13-6 Ancora tutto fuoco Per la confusione Contenuta Comunque Mi sono messi Anche a difendere Quindi Invece Dai Vale ancora buona Il miss club bike Maschi del mancino Con un balonetto Bellissimo Assolutamente Una confusione Di grande Intelligenza Di grande esperienza Questo è un colpo Che club bike Ha nel suo repertorio Intelligenza Si Non Corretta Che leven Can Con Torn Un Tipo Ok